Chi fa da sé fa per tre, dice la saggezza popolare, ed io per quanto riguarda il mio sogno, la mia visione su quelli che sono gli ebook, ho dovuto fare di necessità virtù, chi fa da sé fa per tre e allora ho fatto assolutamente da solo, ho cercato di sviluppare, immaginare, creare, intrecciare relazioni, credo che a un certo punto solo soletto di aver creato una ragnatela di sviluppo e di potenziale ulteriore sviluppo che non credo in molti abbiano in Italia, forse non ce l'ha nessuno, immaginata come l'ho immaginata io e relazionata come l'ho relazionata io e quindi è una realtà che è proprio come un aereo il quale sta rullando sulla pista e che sta attendendo dalla torre di controllo il go per poter decollare perché nell'aereo c'è tutto, quello che occorre e la meta è ben indicata, la rotta è ben indicata, basta inserire, basta aver inserito nell'aereo la benzina necessaria per fargli spiccare il volo e per farlo andare a quella meta non vicinissima ma neanche lontanissima nella quale può atterrare confortevolmente ottenendo dei grandi risultati. Avete colto tutte queste metafore? Benissimo, se le avete colte e se siete dei colleghi editori illuminati oppure se siete degli imprenditori davvero creativi, allora contattatemi e ne parliamo.